Continuano le difficoltà nel reperire dosi di vaccino antinfluenzale. Lo confermano le continue segnalazioni, arrivate anche nelle ultime ore, alla nostra emittente, soprattutto da parte di persone anziane. Il quadro della situazione ad oggi è ancora confuso. L'Ordine dei Medici conferma l'acquirsi della criticità. Dopo i diversi appelli delle scorse settimane, il presidente Quiriconi dichiara che c'è una grande incertezza sulla possibilità di reperimento dei vaccini, che non si sa se e quando torneranno disponibili. L'ASL ammette il momento di estrema difficoltà, ma assicura che nelle ultime 48 ore sono arrivate nell'intera ASL Toscana Nord-Ovest 10.000 dosi da riservare alle fasce a rischio, mentre altre, ancora non quantificate, sono state recuperate all'interno del sistema e rimesse in circolo nelle farmacie. La difficoltà, come anticipato dal TG Noi, è legata ad una inadempienza di una ditta fornitrice che non sta consegnando i vaccini previsti, nei confronti della quale, per questo motivo, l'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale ha avviato un contenzioso. Proprio quest'anno il vaccino antinfluenzale è così importante che il Ministero ha fatto raccomandazioni molto pressanti. L'esclusione dei sintomi influenzali può aiutare nel riconoscimento dell'eventuale contagio da Covid. C'è inoltre un altro fatto da considerare. Non tutti i medici di base stanno riscontrando lo stesso tipo di criticità. Solo chi ha prenotato le dosi in anticipo oggi ne conserva a sufficienza per vaccinare le persone più fragili.